Domani ad Avellino il Bomba Day sarà rimosso l'ordigno ritrovato nel greto del torrente Fenestrelle che verrà fatto brillare alla cava Bruschi di Atripalda. Dalle 6.30 alle 9.30 l'evacuazione di oltre 2.000 persone dalla zona rossa nel raggio di 258 metri dalla bomba. Gli sfollati che non hanno trovato autonoma sistemazione verranno ospitati nel campus scolastico di Via Morelli e Silvati, dove stamattina i locali sono stati sanificati. Dalle 6.30 alle 9.30 le persone dovranno essere a recarsi presso le alie di attesa, il parcheggio del Mercatone, una zona di Vione Mazzini più un altro le piazze Libertà. Dopodiché con gli autobus e dei servizi navetta resi disponibili dall'aere saranno poi convogliati qui presso il campus scolastico. Il piano prevede circa 1.200 persone. Nella zona del Ponte della Ferriera proseguono gli avvisi alla cittadinanza. Qualcuno un po' di apprezzione ce l'ha, qualcun altro spera che non si verifichino fenomeni di sciacallaggio. Quello sì, quello ci stanno sempre, quello sì. Bisogna controllare bene la zona, eh? Perché si lascia in casa, ma quando loro traslano in casa e vanno a rubare, quindi bisogna stare molto attenti, con l'occhio aperto. Una cosa che deve essere fatta per tutelare anche noi che siamo qui. L'apprezzione ce ne è tanta, però sapete, quello che ne tiene 60 anni, quello che ne tiene 70, quello che ne tiene 80, hanno tutti paura. Come vi siete organizzati per domani? Stavo chiedendo se era zona rossa anche da mia mamma, quindi domani andiamo fuori. Penso che sia arrivato il momento di evacuare tutto, di mandarla via e buonanotte, quindi speriamo bene.